Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News Per parlare ragazzi di nuovissime notizie barra leak insomma Per quanto riguarda anche la nave madre e news ovviamente anche per la pace in arrivo 17.20 E poi ragazzi come avrete sicuramente letto dal titolo andremo a vedere una nuovissima copertura armi Che è esclusiva perché si può diciamo ottenere solamente tramite l'acquisto del codice Adesso vi dirò tutte le informazioni riguardo a questa copertura armi Che in moltissimi sicuramente non sapranno neanche l'esistenza Io stesso non lo sapevo l'ho scoperta praticamente ieri E' una copertura armi praticamente rarissima che potrete ottenere Adesso vi dico come si potrà ottenere E poi ragazzi ovviamente non possono mancare i soliti leak che facciamo ad ogni video news Detto questo però prima iniziale se non siete ancora iscritti Iscriviti al canale con la campanellina Cerchiamo di raggiungere i 200 mi piace Vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto Instagram per i leak in anteprima Telegram e poi Twitch dove vado insomma in live ogni sera dalle 20 Detto questo incominciamo subito E incominciamo quindi subitissimo con la primissima news ragazzi che potrebbe rivelarsi fake Quindi attenzione prendiamola ovviamente con le pinze Infatti questa immagine è stata pubblicata su Reddit un'ora fa E stata avvistata nella città di Chicago E sembra che qualcuno probabilmente incaricato da Epic Games Abbia fatto questo disegno artistico ovviamente inerente a Fortnite Con una data precisa E quindi potrebbe essere stata una cosa proprio fatta da Voluta anzi da Epic Games Questo non lo possiamo sapere è ancora ovviamente da scoprire Lo vedremo ma come possiamo vedere c'è raffigurato il logo di Fortnite La data del 7.14.2021 è un set di ali Quindi potremmo forse vedere qualcosa quando Epic tornerà dalla pausa ovviamente estiva Non lo so Noi segniamoci questa data vedremo esattamente in quel giorno cosa potrebbe arrivare Insomma c'è questo simbolo di Fortnite con le ali Non ho idea proprio di cosa si possa riferire Speriamo che ovviamente non sia fake e che sia vero Nuove notizie vi dicevo per la nave madre Infatti come possiamo vedere probabilmente anche un pezzo della fattoria Che abbiamo esattamente qui Fattoria pannocchia esattamente Verrà rapito dalla nave madre questo pezzetto praticamente di terra Cosa se ne faccio in questo pezzetto di terra non ne ho idea Però comunque dai file di gioco si può notare benissimo che c'è questo pezzo di terra Che praticamente verrà preso dalla nave madre stessa Questo vuol dire che è una conferma che probabilmente la nave si accentrerà sicuramente Dato che mi sembra che attualmente stia da queste parti Ora non lo vedo perché c'è la safe Vediamo se riusciamo a metterlo da qui Sì si trova praticamente qui Quindi non può diciamo ancora prendere podere pannocchia Quindi sicuramente dopo aver fatto diciamo tutto il giro che noi sappiamo Che farà quindi Foschi Fumaioli Scogliere Castello Corallo E Sipi del Grifoglio Probabilmente si accentrerà come ben sappiamo Al centro della mappa E potrebbe prendere poi questo pezzetto di terra Da la città ovviamente di podere pannocchia Inoltre ragazzi abbiamo anche nuove news per quanto riguarda una nuova skin Che potrebbe arrivare su Fortnite Infatti leggiamo qui Probabilmente quest'anno arriverà in gioco una skin Somigliante ad un Action Figure Un set con il nome in codice infatti Action Figure Ed è stato aggiunto ai file di gioco lo scorso marzo Quindi abbastanza vecchiotto come aggiunta Però comunque potrebbe essere magari utilizzato in futuro per una skin Quindi potrebbe arrivare insomma una skin di questo tipo Ok prima non vedevo la mappa Comunque ve lo faccio vedere qui Ecco l'aggiornamento comunque attuale per quanto riguarda l'UFO Madre ovviamente quando sto registrando io Infatti si trova esattamente Completamente diciamo nella parte destra della nostra mappa Quindi sta praticamente sopra la città di Foschi Fumaioli E sopra ovviamente Moli Molesti e Corso Commercio Inoltre ragazzi guardate un po' qui La skin esattamente di Batman.0 Corazzato Vi ricordo ottenibile comprando tutti e quanti sei codici dei sei fumetti Quindi per avere il suo set tra l'altro completo Perché da quello che si è capito il sesto fumetto Se avete comprato tutti i codici non solo vi darà la skin e il backpack Ma bensì vi darà anche il piccone molto probabilmente incluso Quindi full set con l'acquisto del sesto fumetto Ripeto mi raccomando dovrete avere tutti e sei fumetti Per riscattare il set completo Quindi non basta solo acquistare il sesto fumetto Ma come possiamo vedere Gli streamer la stanno insomma incominciando già a ricevere Quindi molto probabilmente comunque la potremmo iniziare a vedere Noi quelli che hanno quindi acquistato tutti e sei codici Ovviamente il 15 luglio Credo che sia il 15 la data se non erro Dove venga per l'appunto riasciato ufficialmente finalmente questo fumetto Inoltre ragazzi abbiamo una nuovissima immagine di come si vede il naniti alieni Che da quello che abbiamo visto anche nei scorsi video news è un consumabile Attualmente non sappiamo ancora cosa faccia Se è un consumabile sicuramente darà qualche effetto speciale A parer mio dato che è una cosa aliena sicuramente sarà tipo un effetto che darà al giocatore Magari lo renderà più veloce Magari lo farà saltare più in alto Non lo so vedremo che effetto sarà sicuramente ovviamente lo scopriremo con la patch ovviamente Che è in arrivo 17.20 Inoltre ragazzi alto aggiornamento per la nave madre Questa invece ragazzi è la posizione finale che la nave madre raggiungerà in questa patch Dopo ovviamente si sposterà ulteriormente Quindi prima insomma della patch 17.20 avremo questa posizione esatta qui Finale ecco della nave madre Dopo l'aggiornamento 17.20 che vi ricordo che sarà esattamente settimana prossima Se tutto va bene e fortemente ritorna dalle vacanze In teoria dovrebbe essere martedì prossimo La data dell'aggiornamento 17.20 che poi seguirà il martedì dopo ancora la 17.21 Come abbiamo visto dai fall di gioco 17.20 che ovviamente non sappiamo ancora cosa porti preciso Porterà sicuramente il nuovo consumabile Porterà forse una nuova arma Poi ci sarà sicuramente l'aggiunta di nuove skin Insomma vedremo un po' cosa succederà E per ora abbiamo solo queste informazioni Poi ovviamente si sposterà ancora di più Comunque la nave madre dopo la patch 17.20 Inoltre ragazzi da un po' di giorni Ormai tre giorni siamo ora a luglio Abbiamo già avuto modo di provare la nuova crew Ditemi se vi piace la skin Cosa ne pensate E come possiamo comunque vedere Questi sono tutti i pacchetti della crew attualmente Che abbiamo avuto ovviamente su Fortnite Voglio sapere il vostro preferito qua sotto nei commenti E quali avete soprattutto tra questi Li avete tutti? Ne avete solo qualcuno? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti E adesso ragazzi passiamo però alla nuova copertura Armi che si può ottenere tramite un codice Vi dico già che è disponibile sul sito di Eneba Mi raccomando se l'acquisterete Vi ricordo che c'è anche il mio codice sconto C'è chinato tutto maiuscolo Mi raccomando se volete avere ulteriore sconto Su questa copertura armi Mi raccomando mettetelo e guardatela qui Fortnite Danger Frog Wrapp si chiama Ed è una copertura armi che nessuno ha mai parlato È parecchio sconosciuta Si può solo ottenere tramite questo codice Che attualmente costicchia devo dire Infatti il prezzo è più basso A cui la potrete trovare È 24 euro e 40 centesimi Quindi insomma costa molto per una copertura armi Lo so Però è veramente il codice è rarissimo Quindi se diciamo avete un account parecchio raro Volete assicurarvi questa copertura armi Molto comunque rare Lo sarà anche in futuro Perché poi non verrà messa in teoria nel negozio getti Quindi la potrete solo ottenere grazie a questo codice Se la volete prendere insomma È disponibile esattamente su Eneba Quindi mi raccomando se la acquistate Vi ricordo codice sconto check in auto Questo invece ragazzi che vi ho appena fatto vedere Era il gameplay come possiamo vedere A ogni sparo che sparate con un mitro o col pompe Insomma questa copertura armi Cambierà praticamente totalmente il colore Quindi potrà essere verde Giallo Insomma tantissimi colori Appena sparato un colpo Questa copertura è animata Quindi cambierà pure il colore Come avete visto proprio pochi secondi fa Quindi una bella copertura Che potrete ottenere Mi raccomando se lo acquistate Ditemelo qua sotto nei commenti Quindi il codice è sicurissimo Quindi andate pure tranquilli Basta mettere il pagamento E poi vi arriverà il codice tramite email Quindi detto questo Direi che possiamo terminare qua Noi ci vediamo stasera In live su Twitch Bella Noi ci vediamo stasera Noi ci vediamo stasera Noi ci vediamo stasera